In caso di Corp Chef, l'attenzione dell'NPB, l'NPB ha dimostrato fuori di promedio, con il nostro chiede, con il tuo cosmo, si va conforme le regole e lei, e il nostro chiede con il signor Renato. L'NPB sta facendo qualche messaggio come sindicato, passava a guardare i diretti dei miei ambritanti. E se il governo ha dimostrato una decisione, il nostro chiede con la decisione è essere, voglio tomar il rispetto mutuo di ambo partito, e mi ha chiesto di negociare, dialogare con le persone e il signor Renato, e che a un' conclusione di ambo partito è essere contento con la decisione che non ha dimostrato. Il nostro chiede con il nostro chiede di mantenere, fuori di prensa, per tenere la tranquillità, non si rende il asunto è. Per il parte del governo, il parte del ministro, è la gente mai in processo per fare, sai con il signor Renato? No. sali fuori di un'organizzazione, e il nostro tipo di salvaguardia, con il quale si va a negociare, e si pide, lo hanno a favore di ambo partito. Grazie. Grazie.